Ascoli che batte lo Spezia 3 a 0, primo posto in classifica, insomma si fa davvero sul serio, che sensazioni prova? Sicuramente c'è la vertigine ma dobbiamo ricordarci che siamo comunque la quinta di campionato quindi come sapete meglio di me il campionato di Serie B è molto lungo, quindi piedi per terra quello che sicuramente però c'è l'evidenza che abbiamo le potenzialità per poter fare un bel campionato Lunedì trasferta contro la Cremonese, sfida difficile a Cremona, che gara si aspetta? Sicuramente è una partita difficilissima perché la Cremonese è costituita sicuramente fra le pretendenti alla vittoria del campionato però non è detto perché comunque noi abbiamo una buona squadra io penso che il mister con tutti i ragazzi andranno lì per giocarsela